Pier Giorgio Cinelli è un uomo distinto e elegante dai modi gentili e raffinati e la sua scrittura riflette il suo modo di essere. Farmacista e dirigente bolognese ha scelto di vivere in Abruzzo da quando è in pensione si è dedicato completamente alla passione della scrittura. 14 libri scritti romanzi e l'ultimo, delicato, lo ha presentato a Campobasso quando la luna accese tutte le luci, il titolo Una storia in cui il viaggio ha centralità nel racconto. In alcuni momenti è la storia di una ragazza che ha una vita travagliata, che è piena di guai e che qualche volta i suoi guai li portano a guardare la luna che si spegne. In realtà alla fine lei ha un impulso positivo, forse ha risolto i suoi problemi e allora vede la luna che ha aperto tutte le luci. La presentazione nella cantina Herrero a Campobasso, poiché tra i protagonisti del libro c'è anche Concetta, la titolare che lui ha conosciuto dopo aver bevuto e amato uno dei suoi vini e che Pier Giorgio Cinelli ha omaggiato appunto con una parte nel romanzo. Si è creato una simpatia diciamo di colloquio e ho detto signora io sto facendo un libro, avrei bisogno proprio di un personaggio femminile, posso mettere lei come personaggio femminile? Cinelli ama il Molise dove viene spesso non sono uno scrittore ma un narratore ha detto, mi rifaccio ai racconti di un tempo, quelli che si facevano intorno al fuoco la sera prima di coricarsi come mi diceva il babbo a Bologna. Pier Giorgio Cinelli i suoi libri non li vende infatti ma li regala agli amici per condividere emozioni. Molti libri riflettono le mie sensazioni di viaggio che magari io le metto in bocca ai personaggi però sono io e allora io sono un po' geloso di questa cosa per cui non mi va di che tutti quanti leggono, la voglio dare alle persone che conosco o che mi sono simpatiche in modo che le mie cose restano in qualche maniera circoscritte alle persone che amo. Ha regalato copie dei suoi libri anche all'associazione sociale benefica creata da Concetta della Cantina Herrero affinché possano essere di aiuto per qualche bella iniziativa. Sperando che possa essere utile per creare qualcosa di particolarmente giovevole in parte perché non è che risolve tutti i problemi ma qualche cosa possa fare per il bene di queste persone che lei assiste.